Il padre non voleva avere niente a che fare con voi. Diceva che siete sempre stati volendo a condurre la terra. E a che vi lasciavano fare, vi mangiavo una isa e tutti i secondi gli hanno. Il padre non aveva tanto la figlia. Ma era un uomo che si sapeva bene. Tu no. E questo lo sapeva pure. Il padre non è sempre sottovalutato.